La sostenibilità economica dei media, sia di quelli tradizionali che cercano di evolversi nella nuova era digitale, che di quelli nati col web e sul web, è uno dei presupposti del futuro dell'industria editoriale in tutto il mondo. Un'industria alla cui buona salute è indispensabile alla buona salute delle nostre società e democrazia. La ragione per cui è così importante che ci siano aziende editoriali con i conti e posto è perché questo serve a pagare le redazioni, i giornalisti e a produrre le notizie di cui tutti abbiamo bisogno, in una società libera. Di questo e di molto altro si è parlato in un incontro organizzato a Roma dal Centro Studi Americani e al quale hanno partecipato alcuni dei nomi più importanti del giornalismo statunitense. In platea è tra gli ospiti alcuni dei principali protagonisti del panorama nazionale. Per il direttore del Wall Street Journal, Gerard Baker, gli elementi vincenti per il successo di una testata nell'impalpabilità e nella vastità del mondo digitale vanno individuate nella sua identità, affidabilità e riconoscibilità agli occhi del pubblico. È un ruolo importantissimo, ci ricorda l'amministratore delegato di Bloomberg e in questo quadro in continua evoluzione continueranno ad esercitarlo le agenzie di stampa. Le agenzie di stampa hanno ancora un ruolo importantissimo. La vera domanda non è cosa accadrà al concetto di agenzie di stampa, ma come un'agenzia debba evolversi in un ambiente digitale. Credo in un certo senso, così come accade per altre media, che forse le agenzie inizieranno a scrivere e raccontare storie in un modo più in linea con gli interessi e comportamenti dei consumatori. La domanda alla quale nemmeno i big del giornalismo americano sembrano in questo momento saper rispondere è quella sul futuro che verrà e forse sembra di capire dai loro interventi l'unica strada senza perdere la propria identità è tentare più strade senza paura di sbagliare. È un momento diciamo di grande evoluzione dei media e quindi evidentemente è molto importante cercare nuove strade e non è detto che le strade che si provano siano quelle giuste. Bisogna probabilmente cambiare completamente mentalità e non avere paura di provare che è quello che stanno facendo gli americani e credo sia la cosa giusta, cioè il fatto di sperimentare nuove strade per poi vedere quella che funziona.